Dopo esserci finalmente liberati da quel puzione del presidente della provincia Cirielli, che comunque nonostante tutto e con alterne fortune aveva difeso il Vallo di Diano dalle cosiddette invasioni barbariche, abbiamo avuto il piacere di ricevere con apposita ordinanza del nuovo, si fa per dire, presidente Canfora, nella più totale mancanza di condivisione di informazione preventiva con le comunità locali, la nostra dose di ecoballe provenienti dallo stile di battipaglia, da sistemare nel già disastrato sito dell'Ergon nell'area industriale di Polla. Lo afferma attraverso una nota stampa il sindaco di Montesano sulla Marcellana Donato Fiore Volentini. Il paradosso continua a Volentini è che i comuni del Vallo sono obbligati con diffida a conferire rifiuti solo nello stile di battipaglia, con la conseguenza che porteremo per qualche mese rifiuti in giro sull'autostrada in direzione Vallo-Battipaglia e il ritorno naturalmente a spese del cittadino contribuente. Secondo il sindaco di Montesano non è la prima emergenza sui rifiuti e neanche la più acuta. In ogni caso, conclude Volentini, il Vallo di Diano non era mai stato considerato una discarica, evidentemente quella delle ecoballe, una malattia endemica di un partito politico che spiega anche il colpevole ed assordante silenzio di tanti amministratori del Vallo di Diano. Ma sulla vicenda, proprio dall'altra parte politica, interviene Cristian Telese, responsabile ambiente del Partito Democratico di Salerno. In merito all'ordinanza di Canfora, Telese specifica tale provvedimento si è reso necessario per far fronte ad una seria emergenza che avrebbe di fatto comportato l'impossibilità assoluta per i comuni della provincia di Salerno di prelevare per le strade il rifiuto. Telese fa il punto anche in merito all'incontro tenutosi ieri in provincia, al quale erano presenti tra gli altri anche la società affidataria del servizio ecoambiente ed anche il comune di Polla. Il risultato di tale concertazione si può riassumere in due punti fondamentali, spiega Telese. La fine improrogabile del trasferimento temporaneo dei rifiuti biostabilizzati, fissata per il giorno 21 settembre 2015 e non più il 2 novembre. E la nomina da parte del comune di Polla di un tecnico di fiducia per il controllo dei rifiuti conferiti. Nella sua nota Telese ribadisce quanto già specificato nei giorni scorsi. Il rifiuto biostabilizzato recante codice CER 19 0501 e destinato temporaneamente al sito di stoccaggio di Polla è in odore, poiché già trattato dall'impianto stir di battipaglia. Ma stando a quanto accaduto ieri al sito di Polla, sembra proprio che non sia così. Infine Telese specifica, la provincia non ha fatto altro che approntare una risposta riparatoria ad una problematica ben nota già da anni, ma sempre passata sotto traccia e mai affrontata da chi avrebbe dovuto farlo.